Giovedì 10 ottobre per la settimana biblica, Don Rocco Malatacca in mattinata ha incontrato le scolaresche del Liceo Bonghi di Lucera e ha portato la sua introduzione al Vangelo di Matteo, mentre in serata ha analizzato l'Evangelista Matteo sotto punti differenti. Partendo infatti da un'analisi geografica e storica dell'Impero Romano in cui gli evangelisti hanno scritto i Vangeli, ha sciolto vari dubbi sulla questione della diffusione del cristianesimo e risposto alle numerose domande del pubblico presente. Varie sono le visioni distorte di noi cristiani che Don Rocco ha chiarito proponendo nuovi spunti di riflessione evangelica.